Salve a tutti, questo è il mio primo video e vi farò vedere gli scambi delle pinniponne. Prima cosa è rimentare tutte le pinniponne e poi giocheremo con l'ambulanza. Allora, questa è la prima faccina che c'è la benda davanti e perciò è un pirata. E ci mettiamo questi capelli con la franghetta da una parte, essendo di colore lilla. Poi mettiamo questa maglietta molto chic. Ecco. Poi adesso mettiamo questi pancialloncini rosa, le scarpette tutte blu, dove stanno le punte dei piedi si vede il teschio. Poi nel buchino che c'è nei pantaloncini ci mettiamo un accessorio dell'ancora, per forza perché è un pirata. Poi ci mettiamo questa borsetta molto originale per un pirata. Passiamo all'altra. Allora, questa con i capelli gialli, che deve essere gialletta. Mettiamo i capelli bellissimi. Poi vediamo che cosa li possiamo mettere. Questa maglietta color facchiotto, che c'è un certino qua. Poi una gonnellina rosa, le la mettiamo su queste scarpette molto carine, che hanno appunto il fiocchettino bianco e il resto è tutto viola. Poi, vediamo. Qua ci mettiamo un gattino. Fatto anche questo. Ah, dopo qua ci vorrebbe anche la spada. Mi piace troppo questa spada, quindi la vorrei mettere qua. Allora, poi di seguito c'è questa faccina molto carina, con i capelli viola, molto convenzionale. Ecco. Poi questa maglietta tutta rosa, con le due ancore, che fanno come una X. Poi mettiamo una gonnellina blu. Poi qua c'è delle ondine bianche, vedete, così. Poi ci abbiamo la borsetta con l'ancora, poi ci metteremo un cuoricino sui capelli e poi ci mettiamo anche un uncino, così come è capitano uncino DJK Pirati.